La parola robot advisor o robot advisor, insomma c'è una declinazione molto ampia di potenzialità che la tecnologia sta sperimentando di fatto nella sua messa a disposizione dell'industria finanziaria e della consulenza in particolare. Qual è il suo punto di vista sullo stato dell'arte che come ho appena detto è ancora evolutivo per cui non è definito e qual è il valore aggiunto che il consulente può dare rispetto a un'app che ci dà una soluzione ma che nasconde chiaramente un elemento di calcolo che è un algoritmo, è qualcosa che viene gestito altrove. Innanzitutto ringrazio Luca per la domanda perché è una domanda che mi mette nelle condizioni di rappresentare quello che io credo essere il vero elemento innovativo della nostra professione e elemento anche di prospetticamente più solido. Credo che questo momento in cui la trasformazione digitale dei sistemi ha impattato fortemente in tutti gli ambiti sia per il nostro mondo un momento assolutamente unico. Perché dico questo? Perché avevamo provato a dire all'inizio che il valore relazionale con i cittadini era l'elemento centrale per costruire quel processo virtuoso di consulenza che porterebbe poi a scelte ottimali e ad un miglioramento della vita del singolo e quindi del sistema paese. E' altrettanto vero che mettere in campo degli strumenti capaci di sintetizzare rapidamente operazioni complesse che altrimenti a livello cartaceo sarebbe complesso portare in essere, efficientare i processi stessi, diminuire i tempi di attuazione. Ecco questo ed altro secondo me evidenziano un aspetto fondamentale, quello di liberare tempo. E se è vero come è vero che oggi il valore del tempo è forse la ricchezza più ampia che abbiamo e che quel tempo potrà essere utilizzato per appunto relazionarsi, condividere, dialogare senza fretta, come dico io, per trovare soluzioni, credo che questo sia il modello migliore possibile che potevamo immaginare. Quindi facciamo fare all'automazione, alla tecnologia una parte del lavoro, la parte più noiosa, diciamo così, tanto per essere chiari. E condividiamo realmente quelle che sono le istanze che spesso invece venivano lasciate sullo sfondo perché? Perché bisognava invece star dietro alle carte, burocratizzare il più possibile processi significava avere meno tempo a disposizione.